Si sta costituendo il Comitato Difesa Ospedale Castelli, promosso dai consiglieri comunali di Verbagna, Laura Sau, Giovanni Alba, Giovanni Battista, Finocchiaro De Lorenzi. Se giunti a questa determinazione, spiegano i promotori dell'iniziativa che una decina di giorni fa avevano organizzato un presidio di fronte all'ospedale, dopo la pubblicazione del documento Ires, il cui contenuto riteniamo estremamente pericoloso per il futuro del Castelli, è un danno irreparabile per i 100.000 residenti nell'area sud della provincia. Rileviamo ancora una volta che tale decisione è stata assunta in solitudine dai vertici regionali, senza consultare preventivamente territori e istituzioni, a cominciare dalla conferenza dei sindaci dell'Asra VCO come loro diritto. E quindi invitano le persone sensibili a queste problematiche ad unirsi a noi per sostenere tutte le iniziative necessarie per contrastare quest'azione lesiva del diritto alla salute dei cittadini. Hanno già aderito, oltre ai tre consiglieri citati, anche Alberto Catena Cardillo, Fosso Cavallini, Adriano Sbernini, Massimo Ronchi, Lucio Scarpinato, Claudio Ramoni, Raffaella Moretti, Aurelio Tedesco e Nicoletta Sala. Contrari, invece, Lega e Forza Italia. Già oggi l'ospedale dei Verbanesi è anche il Madonna del Popolo di Omegna e il San Biagio di Domodossola e viceversa. Soltanto insieme, lo ripeto volentieri, sono in grado di offrire la migliore risposta alle esigenze sanitarie dei cittadini del VCO, dichiara il senatore leghista Enrico Montani. È dunque anacronistico per quanto mi riguarda dare vita a un comitato difesa del Castelli. La deputata di Forza Italia Mirella Cristina osserva un'azione riduttiva e divisiva. Avrei piuttosto spiccato la nascita di un comitato a difesa dei tre nosocomie per una sanità di eccellenza nel Verbano Cusiossola. Omegnesi, Verbanesi e Ossolani hanno gli stessi diritti, hanno tutti il diritto di essere curati sul territorio con una sanità di elevata qualità. Dalla regione Piemonte questo dobbiamo pretendere e non perderci in quisquiglie. Secondo Cristina, scendere in campo per difendere il Castelli è molto egoistico.